Dalla bigiotteria ai dischi, dall'oggettistica alle scarpe, borse ed abbigliamento, è il mercatino delle pulci che è tornato la scorsa domenica a Campo di Marte per la prima edizione outdoor di quest'anno, dopo il successo raccolto all'Arezzo, fiere e congressi. Oltre 250 banchini dell'usato presenti, migliaia invece le persone tra i banchi a caccia di affari ma anche solamente per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il mercatino svuota cantina e dunque è tornato dove tutto è partito, a Campo di Marte, con l'obiettivo di riqualificare i giardini della zona, spesso teatro di episodi di cronaca, ma lo ha fatto per l'ultima volta. Il prossimo 23 luglio infatti il mercatino si sposterà in un'altra location, al Pionta, durante il River Festival. Le domeniche del 6 e del 13 agosto invece lo svuota soffitte farà tappa a Villa Severi durante la festa della birra. Infine il 17 settembre tornerà l'edizione indoor, la location nuovamente sarà il centro affari.